Si apre oggi quella che potrebbe essere la settimana decisiva per risolvere, almeno in parte, il mistero della scomparsa in Albania di Davide Pecorelli, imprenditore della Valtiberina ed ex arbitro della sezione di Arezzo. Lunedì 1 febbraio, infatti, le autorità albanesi invieranno alla procura di Perugia le analisi dei resti umani trovati nell'autocarbonizzata Pucca. Le tracce di DNA saranno poi comparate con quelle del fratello di Davide e così sarà finalmente chiarito se quei resti sono meno dell'imprenditore. Davide Pecorelli era arrivato in Albania lo scorso 3 gennaio. Una volta atterrato a Tirana, aveva noleggiato una Skoda Fabia al momento centrale per le indagini. Il giorno dopo si era diretto a nord dell'Albania per poi far perdere le proprie tracce il giorno dell'Epifania. L'auto era stata ritrovata il 7 gennaio completamente carbonizzata a poca distanza da Pucca. Solo il giorno dopo, nell'abitacolo della macchina, nei sedili posteriori, erano stati scoperti i resti umani, da cui il laboratorio forense di Tirana ha estratto le tracce di DNA che oggi arriveranno alla procura di Perugia. Adesso, infine, è spuntato anche un testimone oculare, un contadino di 53 anni, che ha raccontato di aver visto l'auto andare a fuoco e di aver lanciato l'allarme. Intanto, in Valtiberina sono stati apposti i sigilli relativi al fallimento dell'attività che Pecorelli gestiva a Sansepolcro. Non è dato però sapere le motivazioni riferite a questo provvedimento, ed è meno se il tutto può essere legato al caso che ormai riguarda l'ex gestore. Da qualche mese, infatti, l'esercizio risulta a nome della compagna di Davide Pecorelli.